Musica Detto questo, anche oggi si aprono i giornali, legge elettorale incostituzionale, siamo stati incostituzionali per sette anni, come evolveranno le prossime elezioni? Evolveranno, devo dire, noi come Italia dei Valori avevamo detto già che questa legge era incostituzionale, volevamo cambiarla, abbiamo lottato per farla in Parlamento, ma abbiamo anche racconto un milione e duecentomila firme di cittadini che volevano cambiare questa schifezza di legge che è il Porcellino, ora è arrivata la Corte Costituzionale, ben venga la Corte, ma diciamo ci voleva la Corte Costituzionale, sei anni in Parlamento l'incapacità assoluta di tutti i governi che si sono susseguiti e dei Parlamenti di cambiare questa legge, una vergogna. Detto questo sono stati sanciti due principi dalla Corte Costituzionale, uno non è possibile avere un premio di maggioranza che praticamente succede questo, chiunque arriva, il primo partito che arriva anche se ha preso il 10% ha detto di avere un premio maggioranza che lo porta al 55%, immaginate che non ha senso, la seconda cosa, la Corte ha detto che non si possono fare le liste bloccate, ma i cittadini hanno detto di scegliere i propri rappresentanti, quindi io voglio votare, le preferenze, che è quello che abbiamo detto, ora dico io che spero che il Parlamento sia in condizione di fare velocemente una legge e ci porti a votare, perché non ha senso tenere in piedi un Parlamento che a parte che non fa nulla, ma un Parlamento è eletto con una legge dichiarata incostituzionale. Noi alcune cose diciamo e due principi in particolare, il primo proprio questo, che la nuova legge deve consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, io voglio scegliere chi deve andare in Parlamento a rappresentare. Seconda cosa, un premio di maggioranza che garantisca la governabilità, però non può essere dato al partito che prende il 10%, quando dobbiamo prevedere una base, minimo 40%, per cui quel partito, o non ce ne sono partiti al 40%, quella coalizione che raggiunge il 40% ha diritto ad avere il premio di maggioranza fino al 55, sia alla Camera che al Senato, in realtà è da consentire la governabilità, perché se io mi presento con un progetto e poi non ho i numeri per realizzarlo, potrò sempre dire scusatevi ma non ho i numeri, in questo modo si può assumere responsabilità e un po' per esplicitarla, per renderla più semplice, poi entriamo nei tecnicismi, come la legge di elezione dei sindaci, che è l'unica legge che ha funzionato, i sindaci si sa il giorno delle elezioni, si sa chi è diventato sindaco, non solo, si sa che ha la maggioranza, poi magari il sindaco la può perdere perché governa male e quindi perde il sostegno, però all'inizio ha i numeri per governare, abbiamo scelto i consiglieri, ha i numeri per governare, può attuare quel programma che poi è l'impegno che ha preso con i cittadini che lo hanno votato.